e il saluto anche dell'amministrazione comunale con l'assessore Italo Taglia la tela. Comparenti, amici, tutta la comunità in festa. Eh? Allora auguri, tanti auguri. Eh? Un saluto a chi guarderà questo video. Grazie. Tanti auguri per a voi, tante benedizioni al Signore. Pastore della Chiesa Cristiana Ventista di Gaeta, Davide Malaguarnera. Allora, cento anni di Amelia Simeone. Che significato date come comunità a questa festa, a questo stare insieme questa sera? Ma oggi è una bella festa perché è una festa di vita. Amelia Simeone sta bene, nel senso che è una persona lucida, perciò oggi è qui presente insieme a noi. Eh? Ed è anche un momento non solamente spirituale, ma anche un momento di testimonianza e di ringraziamento eh al nostro Signore che che ha concesso tutti questi anni ad Amelia. Lei ha diversi nipoti, pro-nipoti eh che vivono in America, perciò è un momento anche molto bello per per lei. E lei ha vissuto veramente tanti momenti. beh, Amelia eh è nata è nata cento anni fa, perciò ha vissuto la guerra, mi raccontava eh in questi, durante le visite che faccio a lei, mi raccontava tutti gli episodi eh dei tedeschi e perciò oggi veramente vederla, vederla qui dopo cento anni così eh così così bella e lucida è un grande un grande piacere, un grande onore. Anche perché gli anziani sono patrimonio di tutti. Beh, assolutamente sì, gli anziani sono patrimonio di tutti, poi con le loro esperienze eh ci insegnano, ci insegnano anche a superare delle difficoltà che oggi eh vediamo come 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 se fossero delle delle grandi montagne e poi pensare invece che so ad Amelia che mi raccontava che lei da Itri scendeva qui per prendere un del cibo e poi doveva stare attenta a non essere scoperta dalla dai soldati tedeschi se no gli toglievano il cibo oppure riuscivano cioè eh ci c'è ci sono esperienze veramente diverse sembra veramente un altro mondo però è un mondo che ha vissuto lei e che sta vivendo adesso anche anche in questo momento perciò diciamo che Amelia ha vissuto veramente in questi cento anni eh un un cambiamento della nostra del nostro mondo in maniera vertiginosa. Allora volevo invitare qui l'assessore Italo Tagliallatetta per un saluto e un augurio dell'amministrazione dei guardi di Amelia Smea. Buonasera a tutti, porto i saluti del sindaco dottor Cosmo Mitrano, io sono orgoglioso, fiero di essere qui e spero che in questa situazione ci potrebbero essere altre. Io sarei onorato, professore, per poter essere qui in altre occasioni. Un attimo solo. Questa è da parte dell'amministrazione comunale, a nonna Amelia Smeone, per la lunga vita trascorsa nella comunità e per aver condiviso con tutti conoscenza, esperienza e amore. Auguri per i due cento anni. Allora, io ringrazio il mio signore per un figlio che mi ha dato la vita fino a questa età e la possibilità di essere qua amanti a tutti voi. Ringrazio l'autorità, ringrazio a tutti i miei amici, ringrazio a tutti, tutti gli vicinati, tutti quelli che sono vicinati. Il Dio che mi benedica tutti quanti e che dà un giorno e la pace della salute. Tanti auguri ad Amelia, tanti auguri affinché veramente possa vivere altri cento anni, però penso che questo sia un bel traguardo che ha raggiunto e ringraziamo veramente il signore per averci dato questa prima volta nella chiesa di Gaeta. È il primo festeggiamento di cento anni nella nostra chiesa. Ci sono stati tanti membri di questa chiesa che hanno raggiunto l'età di oltre 90 anni, ma cento anni è la prima volta anche per la chiesa avventista di Gaeta. E allora auguri anche a voi. Grazie. Pronto. Adesso tutti gli altri che vogliono una bella foto dico e poi ci sono stati tanti membri di questa chiesa che hanno raggiunto il nostro canale. E allora auguri anche a voi. Pronti. Andiamo a voi. Andiamo a voi. Andiamo a voi. Vai, vai. andiamo a voi. Ok, il ciumetto è il nostro canale. Ok. انide e riporto. We кол Frankly justrujan ai sinabi e dalla� explaina Grazie a tutti.